Io sono Milk, amo inventare. Mi chiamo Chuck, sempre in azione. Mi chiamo Ann, mi piace esplorare. Benvenuti, questo è il diario di Milk, ciò che ha. Allora, guardate come si fa. Nel gioco del calcio bisogna essere rapidi. Prova tu, Ann. Ok, guarda un po'. Ops, scusate. Come faccio adesso a insegnarvi a giocare? Era l'ultimo pallone. Mi è venuta un'idea. È mali, catturata! Ok. Tre, due, uno, presa! Ottimo lavoro, Milk. Ora possiamo tornare a giocare a pallone, giusto Chuck? Pallone? No! Io voglio giocare con questo aggeggio tutto il giorno. Yee-hoo! Pallone? Grazie a tutti.